In questo piccolo corso voglio mostrare quelle che sono le funzionalità principali del gestionale Isilex. Partirei quindi, aiutandomi con la home page, che è appunto una finestra di raccordo tra i vari archivi del gestionale, partirei dalla creazione di una nuova scheda anagrafica. Quindi apro l'archivio delle anagrafiche. L'archivio delle anagrafiche contiene tutte le anagrafiche clienti, fornitori, avvocati, persone fisiche, quindi la nostra rubrica, tutto il pacchetto dei nostri contatti e da questa finestra è possibile effettuare ricerche, stampe o aggiunte, quindi creazioni di nuove schede anagrafiche. Per creare una nuova scheda anagrafica è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere dal menu al contesto la voce Aggiungi. Per inserire una nuova scheda anagrafica quindi è sufficiente compilare alcuni campi come il tipo, quindi sceglieremo società, persona maschio, persona femmina, magistrato maschio, magistrato femmina per procedere quindi all'inserimento. Quindi inseriamo una società e procediamo con il salvataggio cliccando sull'icona salva. In questo caso la nostra scheda anagrafica è già creata, ovviamente manca di tutti quei dati che risulterebbero necessari per esempio per una fattura, per un deposito di atti, per la fatturazione elettronica, quindi la completezza di una scheda anagrafica può avvenire nel momento dell'inserimento della stessa o in una fase successiva. In questo momento aggiungo qualche altro dato, quindi vado a specificare che questa società è cliente. Mi posiziono nella sezione recapiti per aggiungere uno o più indirizzi. In questo caso inserirò la sede di questa società. e la città, quindi l'indirizzo. Ovviamente il programma mi propone anche il CAP e la provincia, quindi questi vengono ovviamente precompilati. Salvo sempre l'inserimento. Queste icone rappresentano quindi i documenti, questo risulterebbe l'indirizzo preferenziale per la creazione dei documenti e questo per la fatturazione, quindi potrei avere un altro indirizzo, quindi la filiale e via. Questa volta mettiamo Roma. In questo caso alla filiale spediremo la corrispondenza. Salviamo. Nella parte dei telefoni possiamo aggiungere n telefoni, quindi i recapiti telefonici abbinati alle sedi. Quindi adesso aggiungerò il recapito per la sede di Milano e un altro, in questo caso per la filiale. solo uno dei recapiti risulterà quello preferenziale. Aggiungo anche un indirizzo email. Nella parte dei dati fiscali è possibile inserire la partita IVA, il codice fiscale, quindi adesso inserisco una partita IVA a caso. In questa finestra, oltre all'inserimento della partita IVA, è possibile inserire per esempio gli studi di settore, quindi semplicemente vado ad attivare il pallino corrispondente alla tipologia della clientela, in questo caso utilizzata, quindi il campo studi di settore viene precompilato, quindi questo dato servirà poi per le relative stampe, quindi le stampe degli studi di settore. Possiamo anche aggiungere il tipo di pagamento, questo cliente mi paga normalmente con un bonifico 30 giorni ed eventualmente possiamo anche andare a specificare su quale banca, quindi la nostra banca, sulla quale effettuerà il bonifico il cliente. La scheda anagrafica è composta anche di altre sezioni, la parte marketing, dove vado ad inserire dei dati relativamente al gruppo societario, ovviamente non sono dati obbligatori, ma possono essere utili nel caso in cui si debba, diciamo anche successivamente all'inserimento dei dati, effettuare delle ricerche particolari, quindi in questo caso se la società gioca a mani SPA risulta capogruppo, potrei dire questa è capogruppo e le altre anagrafiche che andrò ad inserire invece risulteranno appartenenti al capogruppo. I dati inizio rapporto, quando ho conosciuto questa società, quindi posso inserire una data e l'origine del rapporto. Questo cliente l'ho conosciuto ad un convegno. Il dettaglio origine potrebbe anche essere una persona fisica, potrebbe essere questo cliente che è stato passato da un commercialista, da un amico comune, da un passaparola, quindi posso andare a specificare sia l'origine che il dettaglio. Anche i dati di mercato non sono obbligatori, ma potrebbe essere utile in certe situazioni compilare questi dati. Quindi i segmenti di mercato, fatturato, addetti, ovviamente tutto questo relativamente al nostro cliente. Salterò in questo momento la parte web per procedere invece all'inserimento della scheda pratica. Una volta creata la nostra scheda anagrafica, sarà possibile generare la pratica. Come faccio a generare la pratica? Posso rimanere all'interno della scheda anagrafica, quindi senza bisogno di uscire dalla scheda anagrafica, ma rimanendo sempre all'interno della stessa e cliccando appunto nella sezione pratica. Le possibilità di creazione pratica sono due, quindi il Crea Pratica e il Crea Pratica Standard. Io ho aperto questo menu a contesto sempre utilizzando il tasto destro del mouse. Il Crea Pratica apre una scheda pratica vuota dove devo compilare i campi necessari ai fini della creazione della pratica. Invece in questo caso vi mostrerei la creazione della pratica standard in quanto è una procedura guidata di creazione, quindi avrò delle schermate che mi aiutano appunto nella creazione corretta della pratica. La prima cosa che mi chiede questo tipo di procedura di creazione di una nuova pratica è che materia ha questa pratica, di cosa ci occupiamo, civile, amministrativo, quindi è un dato che possiamo preimpostare nel gestionale, quindi nel gestionale già diciamo il nostro studio l'80% delle pratiche avranno come materia civile e quindi ovviamente creando una nuova pratica il programma mi mostrerà come appunto di default civile, ma posso sempre modificare diciamo questa impostazione scegliendo un'altra materia. L'oggetto della pratica, allora passiamo ai dati generali, quindi di cosa dobbiamo fare, qual è l'oggetto, quindi in questo caso per questa pratica e per questo cliente dobbiamo fare un'ingiunzione di pagamento. Ecco, scegliendo questo tipo di oggetto si è, diciamo, è esploso un automatismo, questo automatismo che ovviamente avevamo preimpostato, cosa comporta? Che scegliendo un certo tipo di oggetto il programma mi ha compilato gli studi di settore e la categoria. Quindi lo studio di settore può essere abbinato al tipo di oggetto di pratica e alla categoria. Quindi in questo caso l'ingiunzione di pagamento per noi prevede la categoria recupero crediti e questi studi di settore. Nella sezione referenti ci troviamo gli avvocati o i collaboratori che si occuperanno, lavoreranno per questo fascicolo. Quindi abbiamo l'avvocato che risulterà R significa responsabile pratica. Ecco, se anche non ci ricordiamo le sigle che a parte sono abbastanza intuibili, con il cursore rimanendo fermo qualche secondo si apre un tooltip e quindi una spiegazione e questo praticamente in tutte le parti del programma rimanendo fermi con il cursore su alcune scritte il programma ci dice, ci dà l'informazione di cosa si tratta. Quindi la R sta per responsabile, la C per collaboratore, U per segue udienze, AR per antiriciclaggio, la F per fatturazione. Quindi in questo caso ci troveremo con lo studio e metterà la fattura. L'avvocato sarà responsabile pratica e andrà anche in udienza e l'avvocato Bianchi risulterà collaboratore e anche lui andrà in udienza. Possiamo anche impostare un totale ore budget. Il programma gestisce anche non solo il tarifario nazionale forense, ma anche la tarifa oraria o eventuali listini personalizzati. Quindi lo studio ovviamente si può personalizzare un listino in base alla tipologia dell'attività svolta o in base alla tipologia della clientela. Quindi per un cliente posso decidere di lavorare e avere un tarifario particolare. Ovviamente il totale ore budget può essere utilizzato ed è utile da utilizzare nel momento in cui io dico che per quella pratica prevedo di lavorare n ore, quindi non più di quelle ore. Il programma stesso in una certa zona della pratica, nella parte delle impostazioni, potremmo anche dire mostrami quando stiamo superando le ore budget previste. In questo caso mettiamo 200 ore, ci dice se vogliamo ripartire le ore budget e noi diciamo di sì. Quindi saranno 100 ore all'avvocato e 100 ore all'avvocato bianchi. Possiamo impostare una tarifa oraria. Ogni professionista può avere una tarifa oraria standard, ma potrebbe cambiare o variare in base alla pratica. Quindi in questo caso non utilizziamo la tariffa standard, ma andiamo ad inserire una tariffa personalizzata per questa pratica. Quindi diciamo che per questa pratica l'avvocato lavorerà a 300 e l'avvocato bianchi a 250. Non è obbligatorio, ma potrebbe essere interessante gestire anche i costi dello studio, quindi non solo la tariffa applicata nei confronti del cliente, ma il costo orario, quindi quanto quel professionista costa per lo studio, quanto costa la sua attività. Quindi facciamo 150 euro e 100 euro. Il campo descrizione è un campo assolutamente libero, dove è possibile scrivere con un massimo di 255 caratteri, descrivere, quindi avere un'informazione utile da la descrizione pratica. È possibile poi averla nella sezione della fattura, quindi nel momento di emissione della fattura, di stampa della fattura, è possibile utilizzare la descrizione pratica. Quindi è un campo che può essere utile da mostrare anche in fase di fatturazione. Cosa diversa, dico questo perché altra cosa è la nota. La nota è invece un'informazione interna allo studio. Quindi io ho cliccato in questo link altri dati, si apre un'altra sezione della creazione pratica dove mi dice la sede di questa pratica qual è, perché potrei appunto avere più sedi nello studio legale e posso dire questa pratica è della sede di Milano. La posizione fisicamente dove lo andiamo a mettere, quindi questo fascicolo avrà una sua collocazione all'interno dello studio, quindi possiamo tranquillamente dire nell'armadio A ed è affidata. Affidata A non ha nessun diciamo nesso con il responsabile pratica, ma semplicemente ha una comodità, cioè chi fisicamente ce l'ha sopra la scrivania e questo è molto comodo tanto più negli studi con più piani, più livelli non è obbligatorio compilarla ma al posto di come dire chi ce l'ha quindi cacciare un urlo chi ce l'ha questo fascicolo semplicemente aprendo la pratica è possibile vedere chi in quel momento ce l'ha sulla scrivania quindi in questo momento potrebbe averla sulla scrivania la segretaria. Ok andiamo avanti ok allora questa è la sezione dei soggetti abbiamo detto che siamo partiti per la creazione della pratica direttamente dalla scheda anagrafica quindi il programma già mi crea il link quindi il collegamento dell'anagrafica dell'anagrafica giocamani con la pratica e mi precompila anche il nome della pratica adesso se vogliamo mettiamo la controparte dell'avvocato avversario oppure mettiamo solo la controparte oppure se vogliamo possiamo anche aggiungere altri clienti allora mettiamo una controparte mettiamo curazioni generali SPA ecco dopo aver scritto il nome o parte del nome dell'anagrafica il programma stesso mi propone di crearla o meno quindi se mi interessa creare la scheda anagrafica semplicemente vado a scegliere crea anagrafica come società o crea anagrafica come persona potrei scegliere in questo caso oppure non crearla perché potrebbe non interessarmi potrebbe potrebbe non interessarmi avere la scheda anagrafica della controparte in questo caso invece la creiamo quindi crea e semplicemente salva ci dice che non ha inserita la partita IVA se vogliamo inserirla diciamo di no ok quindi il nome della nostra pratica sarà gioca a mani contro assicurazioni generali SPA bene il programma stesso appunto mi propone il tipo quindi in questo caso avremo cliente controparte poi la posizione in giudizio adesso mettiamo che il nostro cliente risultatore e la controparte convenuto il valore della pratica se lo sappiamo lo possiamo già inserire il fido semplicemente ha un'utilità quindi non è un campo obbligatorio ma può essere utile impostare nelle pratiche un fido quindi nel momento in cui vado ad inserire delle prestazioni che superano il fido inserito il programma mi avvertirà a quel punto potrei decidere di emettere una fattura pro forma comunque una fattura di acconto e chiedere appunto un fondo spese al cliente le spese forfettarie posso dichiarare la pratica esente spese forfettarie posso invece indicare la percentuale quindi in questo caso dobbiamo indicare il 15% di spese forfettarie proseguo nella creazione della pratica e mi trovo di fronte alla maschera dei dati giudiziali quindi mi dirà il tipo di materia l'autorità completente mettiamo tribunale l'ufficio sezione il luogo il procedimento se vogliamo inseriamo anche direttamente il valore del contributo unificato basta andiamo avanti ecco in questa finestra io posso decidere di creare direttamente la pratica cliccando il tasto procedi oppure prima di fare i procedi inserire le procedure standard allora cosa sono le procedure standard sono un modulo molto interessante che ovviamente viene consegnato ai clienti ma diciamo con delle voci assolutamente generiche quindi è consigliabile nel momento dell'acquisto del software personalizzare queste voci è un modulo interessante in quanto una volta studiate le modalità operative diciamo dello studio permette di velocizzare tutta la parte dello scadenziario quindi io so che lo studio per un decreto ingiuntivo dovrà lavorare in questo modo diciamo con la prima cosa sarà la redazione poi ci sarà l'iscrizione a ruolo poi ci saranno le copie poi la notifica poi un avvertimento che mi dice scade a controparte il termine per l'opposizione poi ci sarà la registrazione del decreto e poi il precetto su decreto quindi queste voci possono ovviamente essere personalizzate sia nella descrizione che nelle date però sono una gran comodità in quanto una volta studiato questo pacchetto queste modalità operative io mi trovo già scadenziato in agenda di avvocato o segretaria o collaboratore tutta una serie di attività quindi in questo caso noi diciamo che a partire dal 30 maggio lo studio dovrà redigere il decreto dopo un giorno dalla redazione del decreto l'iscrizione a ruolo dieci giorni dopo l'iscrizione a ruolo dovrà effettuare le copie del decreto dieci giorni dopo sempre l'iscrizione a ruolo la notifica 40 giorni dopo le copie del decreto ingiuntivo questo avvertimento scade a controparte termine per opposizione e dieci giorni dopo scade a controparte la registrazione del decreto e dieci giorni dopo la quattrocento quindi dieci giorni dopo la registrazione del decreto precetto sul decreto ingiuntivo ciò non toglie che se volessi aggiungere una scadenza a mano anche se ho utilizzato la procedura posso farlo e tutte le singole attività possono essere attribuite quindi essere inserite nell'agenda di appunto segretaria collaboratore avvocato quindi ogni attività queste sono le sigle può essere diciamo inserita nell'agenda o nelle agende di diversi professionisti adesso clicco procedi così creiamo la nostra pratica il programma ci dice se sono sicura di aver inserito tutte le informazioni potrò comunque compilarle successivamente quelle non inserite ok allora adesso ci troviamo di fronte alla nostra scheda pratica quindi la nostra nuova pratica sarà la numero 1617 con data inizio 30 maggio 2016 la pratica gioca mani contro assicurazione questi soggetti questa diciamo è la nostra copertina ci spostiamo nella sezione dati generali questi sono campi di inserimento quindi se appunto mi sono dimenticata di inserire la descrizione o la nota o voglio aggiungere qualcosa nell'oggetto lo posso sempre fare appunto successivamente mi sposto nella sezione dei dati amministrativi qua mi trovo il mio valore pratica gli studi di settore inseriti le spese forfettarie nei dati giudiziali appunto il tipo di materia il procedimento l'autorità in questo caso l'RG ovviamente non ce l'abbiamo e questi dati ovviamente possono essere modificati in ogni momento adesso ci spostiamo subito nella sezione attività della pratica perché questa sezione sono andate a finire tutte quelle attività che appartenevano alla nostra procedura di decreto ingiuntivo quindi qui si trova nella sezione attività c'è proprio il fulcro operativo della pratica è quello che ci dice cosa è stato fatto per questa pratica e cosa dovremo fare quindi sia il passato per passato noi intendiamo la prestazione perché tutto quello che è già stato fatto ormai è anche già stato monetizzato il crea evento quindi invece le parti diciamo non fatte quindi dove non è attivata la spunta f piccola diciamo sono quelle appunto non ancora dichiarate fatte che riguardano il futuro quindi se noi andiamo in agenda di avb adesso io apro faccio doppio clic per aprire questa attività se vado in agenda dell'avvocato bianchi al 30 maggio lo faccio subito quindi questa è l'icona dell'agenda come vedete viene fuori il tooltip di spiegazione mi troverò quindi in agenda dell'avvocato bianchi ci troviamo il decreto ingiuntivo per la pratica gioca mani quindi siamo questa è la finestra dell'agenda quindi nell'agenda del 30 maggio ci troviamo il decreto ingiuntivo gioca mani spa contro assicurazioni generali bene ritorniamo alla nostra pratica come faccio a tornare nella mia pratica in modo più veloce passo da questo menu il menu finestra che mi dice quali sono le ultime finestre aperte l'ultima finestra aperta è quella della pratica quindi ritorno nella pratica in questo modo queste attività queste attività diciamo possono comunque essere implementate in ogni momento potrei essermi dimenticata di inserire qualcosa quindi nella procedura non l'ho inserito lo posso fare in questo momento voglio inserire qualcosa che riguarda sempre il futuro qualcosa che mi devo ricordare quindi metti in agenda crea l'evento in agenda dell'avvocato cosa deve fare questo avvocato e quando allora e quando mettiamo che il 15 giugno e vorrebbe avere anche un preavviso di 10 giorni dovrebbe fare una certa cosa semplicemente telefonare al cliente gli mettiamo anche la categoria telefonata e salviamo l'attività quindi questa attività che ho creato in questo momento a mano è un evento abbinando la categoria all'attività trovo anche un colore diverso diciamo dalle altre quindi posso anche abbinare eventualmente i colori alle categorie quindi anche l'agenda potrà essere poi visualizzata in modo diverso secondo dei colori quindi delle categorie dell'attività posso essermi invece anche dimenticata di inserire qualcosa che ho già fatto come faccio ad inserire qualcosa che invece ho già fatto queste bene o male sono tutte attività che riguardano il futuro quindi qualcosa che inserisco in agenda per ricordarmi di fare crea prestazione quindi la prestazione è qualcosa che riguarda il passato qualcosa che devo solo monetizzare allora quando quindi si apre la finestra non più nella sezione evento che alla fine l'evento per Easylex l'evento e la prestazione sono uniti nella stessa scheda attività perché c'è questa relazione tra io svolgo un'attività e quell'attività è per forza legata ad una prestazione qualsiasi tipo di attività svolta da un professionista può essere monetizzata quindi questo legame dopo posso decidere o meno di inserire in fattura l'attività ma potenzialmente l'attività inserita in agenda è un'attività poi fatturabile quindi questo legame tra l'evento quindi l'agenda e la prestazione lo vediamo proprio in questa finestra qui in un'unica finestra troviamo evento e prestazione abbiamo detto che vogliamo inserire un qualcosa che abbiamo fatto già fatto quindi mettiamo in data 11 aprile che l'avvocato ha fatto una determinata attività allora come possiamo monetizzare vi dicevo prima che il gestionale utilizza sia il tarifario nazionale forense quindi adesso apro il tarifario non buttiamo via niente quindi abbiamo i diritti del 91 diritti del 94 diritti del 2004 gli onorari civili penali stagiudiziali e gli onorari per fase quelli ultimi quindi possiamo valorizzare monetizzare la nostra prestazione utilizzando il tarifario nazionale forense possiamo anche utilizzare dei listini questi invece vengono fatti dallo studio cioè lo studio dice io voglio monetizzare la mia attività voglio valorizzarla in un certo modo per esempio per la redazione di una lettera metto un certo importo assoluto per qualsiasi tipo di lettera e quindi utilizzo un listino non il tarifario oppure decido di inserire di lavorare con prestazione a tempo come posso inserire quindi dico che l'11 aprile l'avvocato ha avuto un colloquio con il cliente e questo colloquio quanto è durato quindi decidiamo di valorizzare questa attività a ore quindi questa attività sarà fatturabile questo è il tempo impiegato la mia tarifa oraria standard proprio perché vi ricordate nella mia nella pratica avevo inserito la tarifa oraria del professionista e il costo orario bene colloquio con il cliente il tempo impiegato e quindi la valorizzazione benissimo il programma stesso in questo momento mi sta dicendo hai superato il fido io avevo messo un fido di 1000 euro quindi in questo caso noi abbiamo superato il fido più a conti di 1000 euro per un importo di 1280 euro 6 ok perfetto vediamo adesso un'altra parte poi ci sposteremo ancora in agenda la parte relativa alle udienze ovviamente questi sono tutti esempi quindi magari in questo nel liter di questa pratica ovviamente l'udienza in questo momento non ha senso di esistere ma noi la mettiamo lo stesso quindi ci spostiamo nella sezione udienze della pratica tasto destro crea udienza passata se voglio inserire un'udienza appunto voglio avere lo storico di tutte le udienze di questa pratica posso utilizzare appunto la funzione crea udienza passata oppure posso utilizzare invece la funzione di crea prossima udienza in quanto devo creare un'udienza futura quindi crea prossima udienza quando inseriamo una prima udienza all'interno di una pratica si parte sempre dalla pratica mentre il rinvio delle successive udienze avverrà dall'agenda quindi semplicemente torno dalla mia udienza apro ho il gestionale aperto mi troverò di fronte alla finestra dell'agenda clicco fatta l'udienza perché appunto ci sono andato e il programma mi permette di inserire la prossima udienza però poi questo lo vediamo in questo caso è la prima udienza in assoluto quindi troviamo in questa finestra inserimento prima udienza o rinvio udienza proseguiamo mettiamo la data della nostra prossima udienza quindi mettiamo che il 22 giugno ci sarà la prima udienza il programma mi dice confermi la data della prossima udienza al 22 giugno diciamo di sì anche in questo caso posso decidere di utilizzare le procedure standard per le udienze quindi ipotesi se dovessi utilizzare l'udienza 183 il programma mi dice ricordati che devi inserire anche le memorie oppure posso decidere di non utilizzare la procedura standard ma di utilizzare semplicemente un adempimento ci posso anche scrivere a mano udienza 183 quindi udienza 183 non è obbligatorio nulla cioè posso inserire la procedura che mi inserisce l'udienza e le scadenze collegate all'udienza stessa oppure posso utilizzare semplicemente l'adempimento solo il mero adempimento facciamo così giusto per vedere un po' come funziona tutto quindi utilizziamo l'udienza 183 usando la procedura così vediamo l'esame atto di costituzione avversario comunicazione udienza memoria 183 la 1 la 2 3 ritiro memoria quindi tutte queste scadenze che la procedura ci ha inserito ce le va a mettere appunto all'interno dell'agenda anche qui lo stesso discorso di prima ogni singola attività può essere inserita nell'agenda di un professionista di più professionisti oppure dico quell'attività la metteremo in agenda del praticante quindi possiamo tranquillamente andare a modificare il chi poi c'è la nota di udienza possiamo scrivere quello che vogliamo se vogliamo un allarme allarme vero un allarme sonoro se abbiamo le casse accese possiamo inserire questo allarme mettiamo l'allarme ipotesi il giorno prima quindi il 21 di giugno scriviamolo bene magari 21 0 6 2 0 16 il tipo di allarme potrebbe essere come dicevo sonoro e si apre una finestra proprio di gestione allarmi oppure può essere un allarme via email o via sms quindi via mail arriva proprio una mail che mi avverte della prossimità dell'udienza o appunto un sms oppure tutte queste cose insieme cioè normale email più sms adesso facciamo normale e poi attiviamo i procedi così creiamo la nostra prossima udienza con le relative scadenze ecco le prossime udienze sono sempre in rosso bene adesso momentaneamente facciamo un salto nell'ambiente agenda per vedere due cose allora uno vedere la nostra udienza quindi l'udienza del 22 giugno ed eventualmente mostro anche la procedura di rinvio e poi vedere alcune di tutte queste nostre attività quindi queste scadenze che abbiamo inserito nella pratica quindi ci spostiamo andiamo in agenda andiamo al 22 giugno ecco qua allora l'udienza è diciamo collocata all'interno dell'agenda in due sezioni importanti allora la parte sinistra che è la parte dedicata agli appuntamenti e all'udienza se l'udienza non fosse stata inserita nell'agenda dell'avvocato bianchi ma infatti come in questo caso non è nell'agenda dell'avvocato bianchi l'avvocato bianchi la vede lo stesso perché ha attivato udienze di tutti quindi comunque l'avvocato bianchi sa che lo studio oggi ha quest'udienza e a questa udienza dovrà andare l'avvocato senior diciamo ma c'è un'altra sezione che dedichiamo appunto all'udienza che è la parte centrale dove troveremo tutte le udienze dello studio a prescindere da chi ci deve partecipare quindi la gestione diciamo la gestione delle udienze ha questa nota particolare in più vista l'importanza che viene quindi viene dedicata alle udienze due sezioni la zona appunto sinistra relativamente relativa agli appuntamenti e la parte centrale come si fa a rinviare un'udienza molto semplice quindi facciamo finta è arrivato il 22 giugno l'avvocato è andato in udienza torna bene clicca la f piccola f piccola sta per fatto la f grande per fatturabile ci dice se vogliamo rinviare l'udienza adesso ci ha detto che è un'udienza futura però noi lo facciamo lo stesso allora in questo caso si è abilitato anche la seconda possibilità quindi ultima udienza attesa provvedimento quindi scusate bevo un po' di acqua allora quindi c'è questa possibilità di inserire anche una situazione appunto di attesa quindi non è detto che io abbia per forza una prossima udienza quindi una data di prossima udienza ma potrei essere nella situazione che il giudice mi riserva si riserva la decisione e noi lo lasciamo riservare bene allora ultima udienza attesa di provvedimento poi se vogliamo mettiamo anche ecco in decisione il giudice sta aspettando di prendere una decisione e noi mettiamo attesa decisione proseguiamo diciamo che quindi l'udienza del 22 giugno c'è stata è stata l'udienza 183 il programma mi consente di inserire sempre dell'attività dopo questa udienza quindi potrei inserire proprio in fase di rinvio dell'udienza posso inserire direttamente delle scadenze oppure posso inserire qualcosa sempre che riguarda il passato oppure posso utilizzare una procedura standard abbinata in questo caso noi la facciamo finire velocemente nel senso che abbiamo detto che in questo caso c'è un'attesa di provvedimento ma potremmo direttamente inserire una procedura anche in questo caso una procedura successiva quindi magari la procedura di inserimento delle memorie quindi nel caso in cui il giudice in quest'udienza ci avesse dato le scadenze delle memorie 183 potremmo inserire direttamente diciamo queste questa procedura in questo caso clicchiamo procedi e la nostra udienza adesso torniamo alla nostra pratica posso tornare come faccio a tornare nella pratica posso direttamente dall'agenda cliccando la p rossa quindi spostarmi dall'agenda alla finestra pratica quindi se io vado nella sezione udienze mi trovo mi trovo la mia udienza che non è più in rosso appunto è nero perché è un'udienza passata bene abbiamo detto che torniamo nella nostra agenda anche per vedere le nostre le attività che abbiamo che dovremo fare allora quindi possiamo andare in agenda al vediamo al 31 di maggio in agenda dell'avvocato quindi andiamo in agenda al 31 di maggio in agenda dell'avvocato e sappiamo che abbiamo l'iscrizione al ruolo del decreto ingiuntivo bene quindi posso dichiarare l'attività fatta fatta ecco anche questa parte è molto importante del gestionale cioè il programma mi ricorda che quando io dichiaro fatta un'attività e questa attività ovviamente fa parte di una procedura standard questa attività è collegata ad altre quindi mi dice bene tu hai dichiarato fatto l'iscrizione al ruolo ricordati che dopo l'iscrizione al ruolo hai tutte queste altre attività da fare come le copie decreto la notifica scade controparte l'opposizione quindi se utilizzo la procedura standard sono agevolata in questo senso perché non solo carico in agenda tutta una serie di scadenze nelle agende dei vari professionisti della segreteria e quant'altro ma quando dichiaro fatta l'attività stessa che è nella mia agenda il programma mi ricorda cosa devo fare dopo quindi non mi trovo mai nella situazione di avere una pratica ferma morta posso anche ricalcolare le date perché ovviamente se un'attività al posto di farla oggi la faccio domani il programma stesso mi dice se voglio mantenere la data prevista o voglio ricalcolarla da oggi o voglio ricalcolarla da un'altra data quindi ovviamente tutto slitterebbe se dovesse ovviamente spostare quella da cui dipendono le altre ok facciamo in questo caso procedi ok in questo caso la nostra attività iscrizione al ruolo decreto aggiuntivo l'abbiamo dichiarata fatta ritorniamo nella nostra pratica abbiamo detto che abbiamo inserito le nostre attività la nostra udienza ci spostiamo nella sezione documenti anche questa sezione è importantissima è importantissima perché il gestionale gestisce tutta la parte di archiviazione dei documenti e questa diciamo questa finestra permette di effettuare anche gli eventuali depositi telematici la creazione di documento come avviene avviene in vari modi nel senso che posso creare un nuovo documento parto con un foglio bianco di word vi faccio vedere adesso la creazione proprio banale faccio crea si apre un foglio di word ci scrivo dentro salvo il documento chiudo il foglio e qui ho il mio documento allora lo riapriamo così mostro questo è il mio documento creato partendo da un foglio bianco oppure posso quindi creare un nuovo documento utilizzando un modello di stampo unione cosa sono i modelli di stampo unione? sono dei modelli preimpostati quindi dei modelli di word dove c'è un testo delle variabili e queste variabili si compilano con i dati della pratica quindi può essere comodo utilizzare questi modelli di stampo unione semplicemente proprio per velocizzare il lavoro quindi utilizzo un format già preimpostato questo vale per le lettere come per gli atti è indifferente oppure posso collegare i file quindi la creazione del documento in questo caso non la faccio da gestionale ma io il documento l'ho già fatto quindi si trova in una mia cartella oppure in una cartella del server o una cartella diciamo condivisa e vado a prendermi quindi vado a cercare il documento precedentemente creato e lo collego quindi le modalità diciamo di creazione di un documento sono queste cioè o parto da un foglio bianco cioè creo proprio il documento ex novo o utilizzo un modello di stampa unione oppure collego un file già quindi un documento già creato bene il documento già creato può in formato Word può essere convertito in formato pdf questo perché adesso volevo anche mostrare la parte diciamo relativa al pct per depositare un telematicamente un atto devo comunque partire da un file in formato pdf quindi utilizzo la funzione molto comoda del convert in pdf quindi il programma stesso mi converte del file da .doc a .pdf benissimo quindi lo stesso documento convertito in formato pdf bene guardiamo un attimino però diciamo quelle che sono diciamo e quelli che sono i campi della creazione del documento allora il documento potrebbe essere creato semplicemente aprendo il foglio di Word o collegandolo ma ci sono dei campi che possono essere utili da compilare per esempio l'oggetto di che documento si tratta quindi si tratta di una comparsa quindi della categoria atti descrivo il documento posso utilizzare il campo descrizione comparsa di costituzione quindi scrivo qualcosina in più il nome documento può essere lasciato a discrezione del programma che in realtà non è una discrezione è un numero cioè delle lettere è un numero quindi ha una composizione automatica oppure do io il nome al documento quindi lo chiamo comparsa gioca a mani quindi associo io il nome andiamo ancora più nel dettaglio diciamo della creazione di questo documento mi posiziono nella sezione inserisci attività mostra attività perché mentre creo il documento io posso inserire la prestazione comunque la creazione di un documento è una può essere abbinata appunto alla creazione della prestazione cioè all'inserimento della prestazione come faccio ad inserire la prestazione utilizzo l'attività standard quindi cosa sono le attività standard insieme al pacchetto delle procedure standard sono un modulo compreso comunque nella versione standard dove io vado ad abbinare un listino quindi valorizzo l'attività in un certo modo quindi se metto una certa voce il programma stesso me la valorizza anche questo ovviamente va personalizzato quindi potrei utilizzare gli onorari per fase potrei utilizzare un listino posso valorizzare la prestazione anche con il tempo o aprendo il timer quindi apro il mio foglio vuoto di word il timer parte e ovviamente valorizza la mia prestazione in base al tempo quindi la mia creazione di documento in realtà sta diventando un qualcosa di più quindi non creo solo il documento ma ci abbino la prestazione quindi apri attività con timer mettiamo una descrizione ci ricorda di inserire la descrizione quindi comparsa di costituzione ecco allora questo è il nostro atto e questa è la nostra prestazione quindi all'interno diciamo all'interno della fase di creazione del documento trovo due finestre quindi il nostro documento e la finestra prestazione adesso lasciamo passare un po' di tempo quindi posso anche interromperlo il timer vado a prendere il caffè ritorno rifaccio partire il timer quindi continuo a scrivere a scrivere il mio atto ok una volta terminato il mio documento inserisco la prestazione quindi la descrivo anzi salvo perché lui sa già gliel'avevamo detto che si trattava della redazione di una comparsa bene quindi il nostro documento in realtà è abbinato alla sua scheda prestazione che poi posso dichiarare la prestazione fatturabile mi ricorda sempre che è superato il fido bene ok quindi finiamo tutta la parte diciamo di gestione della pratica da esilex per poi passare invece alla gestione della pratica eventualmente da polisweb e poi vediamo il deposito dell'attimo abbiamo già lavorato un po' in questa pratica lavorato per intendo inserito prestazione nella pratica e il gestionale stesso ci aveva ricordato che potevamo emettere avevamo superato il fido di conseguenza mi sollecita in qualche modo ad emettere una fattura salto la parte email che poi descrivo velocemente dopo e mi posiziono nella sezione fatture bene tasto destro del mouse crea fattura bene nella prima finestra di creazione di una fattura il gestionale cosa mi dice hai tre operazioni da fare in questa finestra primo mi devi dire di che fattura si tratta cos'è una fattura di prestazioni una fattura di acconto di saldo prestazioni una fattura di cessione nota di credito preventivo di prestazioni le ultime tre voci diciamo in questo contesto non ci interessano allora fattura di acconto fammi il famoso fondo spese ti ho già detto che mi hai superato il fido n volte facciamo questa famosa fattura di acconto bene la facciamo proforma o la facciamo numerata allora partiamo con la proforma il gestionale consente però di numerare anche le proforma quindi comunque questa sarà la proforma numero uno mi dice vuoi ricordati di mettere in agenda quindi creo la scadenza quindi ricordati che devi chiedere l'incasso della fattura e la mettiamo in agenda della segretaria quindi l'agenda della segretaria praticamente a 60 giorni di 29 di luglio ci ricordiamo di chiedere l'incasso di questa fattura la data ovviamente può essere variata quindi possiamo fare tranquillamente il 29 facciamo 29 di giugno ci dobbiamo ricordare di chiedere l'incasso della fattura bene proseguiamo in questa finestra il programma cosa ci chiede semplicemente il totale quanto vogliamo quindi vogliamo 500 euro e mi scorpora quindi l'iva la cassa prevedenza la ritenuta da conto possiamo anche invece operare in un altro modo diciamo che vogliamo un imponibile di 500 euro e il programma mi va a calcolare quindi dipende da come siamo abituati a lavorare quindi normalmente si fa l'imponibile di 500 euro poi il gestionale calcola tutto il resto quindi in realtà il netto è 529,20 anzi il totale fattura è 629,20 bene questa è la nostra fattura di acconto non ci sono esenzioni RA non ci sono particolari esenzioni IVA non c'è esenzione cassa prevedenza quindi per dirvi che anche in questa fase se per caso ci fossimo dimenticati di inserire nella nostra scheda anagrafica cliente delle particolari esenzioni lo possiamo fare adesso quindi volendo si può intervenire anche in fase di redazione della fattura creiamo la fattura bene semplicemente cliccato crea eccola qua quindi nella sezione fattura adesso la apro quindi apro la mia scheda fattura questi sono i dati generali quindi fattura numero 0 quindi è una proforma la data della fattura la fattura dello studio della sede di Milano intestata a questo cliente questo diciamo sono gli importi la proforma abbiamo detto che numeriamo anche le proforma quindi questa è la proforma numero 1 bene vogliamo vederla come la daremo al cliente quindi andiamo in stampa e abbiamo due possibilità diciamo la fattura analitica o sintetica poi in base diciamo alle esigenze possiamo quindi facciamo la fattura analitica con IVA evidenzata in proforma e questa è la nostra diciamo questa è la nostra fattura quindi la fattura proforma di acconto in realtà ogni fattura può essere modificata nel suo layout utilizzando o sempre i modelli di stampa unione di Word oppure modificando un po' il report fattura quindi è possibile comunque inserire il logo dello studio avere un font diverso avere degli allineamenti diversi quindi la personalizzazione della fattura è possibile sempre farla oppure vi faccio vedere anche la fattura sintetica con distinta prestazioni è fatta in questo modo quindi diciamo la differenza tra le due tipi di fattura è che però è più diciamo ha più senso adesso facciamo una fattura di saldo la fattura sintetica mi mostra il corpo della fattura sopra e sotto nel caso in cui ci fossero le prestazioni la distinta delle prestazioni nel foglio sotto nell'analitica abbiamo una descrizione invece appunto analitica nella prima pagina il corpo della fattura sotto comunque adesso vediamo facciamo finta che il cliente mi abbia pagato la fattura di acconto benissimo quindi trasformiamo la nostra fattura di acconto proforma in una fattura numerata come togliamo il box da proforma ci chiede se la vogliamo numerare se vogliamo anche andare a modificare la situazione contabile della pratica se vogliamo cambiare lo stato della pratica e noi facciamo procedi benissimo questo è il numero che abbina il gestionale alla fattura in quanto è un numero progressivo ciò non toglie che se lo studio per lo studio questa non è la fattura numero due in quanto acquista il gestionale successivamente può sbloccare il lucchettino della fattura dice per lo studio questa è la fattura 48 quindi si può tranquillamente modificare il numero il nostro cliente ci ha pagato la fattura di acconto bene è passato un po' di tempo abbiamo lavorato ancora è il momento di aggiungere una fattura però questa volta faremo una fattura di saldo prestazioni perché di saldo perché intanto vogliamo fatturare il cliente quello che abbiamo fatto finora potrebbe essere passato un anno quindi lui ci ha dato il nostro conto di 500 euro ma adesso vogliamo saldare tutto possiamo decidere di non chiudere la pratica oppure chiudere la pratica ipotesi se questa è l'ultima fattura il nostro diciamo il lavoro è concluso chiudiamo la pratica con questa fattura e quindi cosa fa il programma togliendo il box da non chiudere la pratica ci mette un 100% quindi un saldo finale sulla pratica quindi risulta una pratica chiusa non chiusa saldata bene togliamo il box da proforma la numeriamo già come vedete ci mette la 49 quindi il numero successivo alla precedente la precedente abbiamo detto che era la 48 questa sarà la 49 non mettiamo la scadenza in quanto il cliente ci paga anzi ci ha già pagato ecco il programma cosa fa mi carica tutte le prestazioni tutte le prestazioni finora svolte quindi tutto ciò che risulta fatto fatturabile ma non ancora fatturato se mi sono dimenticata di aggiungere una voce la posso fare tranquillamente adesso quindi mettiamo consulenza una voce generica onorari e ci mettiamo un altro importo come vedete c'è il calcolo delle spese forfettari abbiamo detto il 15% bene allora abbiamo l'imponibile la sottrazione dell'acconto il netto fatture cassa previdenza IVA spese non imponibili quindi ci sono anche delle anticipazioni la ritenuta d'acconto e il netto fattura questa è la nostra fattura adesso la mostro direttamente scegliendo questa opzione fattura sintetica con distinta prestazioni evidenza spese forfettarie distinta prestazione ma vedete la modalità è un po' diversa allora abbiamo detto che qui abbiamo il corpo della fattura abbiamo le competenze le spese forfettarie le anticipazioni quindi spese non imponibili gli acconti da detrarre il totale cassa previdenza totale imponibile IVA l'IVA ritenuta d'acconto è il nostro importo dovuto nel secondo foglio ci mostra l'acconto cioè l'acconto precedentemente versato dal cliente nel terzo foglio la distinta delle prestazioni quindi il foglio che mostra le singole prestazioni caricate nella fattura bene un diciamo andiamo un po' velocemente nella sezione email e vi spiego il concetto dell'email per Easylex allora Easylex cosa consente di fare consente di inviare delle mail direttamente dal gestionale ma in realtà il motore per l'invio diciamo della mail non sarà il gestionale stesso per l'invio dall'invio il pubblico di infotale di inglese quindi per l'invio la di inglese di inglese di inglese . Per l'invio di inglese e il l'invio di inglese si Grazie a tutti. Grazie a tutti.